Buonasera a tutti, siamo collegati con il nostro nuovo webinar, sarà con noi l'aluna mitica di Treksoft e vorrei dare qualche istruzione sull'uso della piattaforma, quindi del pannello di controllo che dovreste avere preferibilmente alla destra del vostro teleschermo, se non è aperto cliccando sulla fraccetta arancione potete aprirlo e quindi poter gestire il pannello di controllo, in particolare l'uso del microfono che potrete accendere per poter dialogare, far domande, intervenire nei momenti in cui apriremo l'audio e poi la manina che appunto consente di chiedere di intervenire quando apriremo il dibattito. C'è poi all'ultimo livello del pannello di controllo una chat dove potete inviare messaggi o a tutto il gruppo o a me e alla relatrice, potete provare a vedere di utilizzarla, io sto inviando adesso un messaggino a tutti, mentre si collegano gli altri partecipanti facciamo delle prove e vediamo se tutto è ok, in particolare vorrei invitare quanti sono già collegati, Lorena, Martina, Rosanna, Michela a provare a cliccare la manina e ad intervenire, se accendono il microfono possono anche dare un saluto, così verifichiamo se l'ascolto è corretto. Chi vuole può iniziare a fare una prova. Martina, non so, Michela, qualcun altro? Se, ecco, Michela ha chiesto di intervenire, io do la possibilità di utilizzare l'audio. Buonasera Michela Palmieri. Ciao a tutti. Ciao, tu sei? Napoli. Napoli, ok, benvenuta. Mi vedi e mi ascolti correttamente? Benissimo. Ok, perfetto. Anche le slide che adesso la relatrice utilizzerà, io vi consiglio comunque di lasciare in alto sul vostro schermo le videate che saranno due, la mia e quella di Alona che ci alterneremo comunque e quindi poi di lasciare il più ampio spazio possibile alle slide che verranno proiettate. Grazie Michela, quando vorrai intervenire appunto non dovrai che alzare la manina e daremo la parola, secondo l'ordine delle richieste. Ciao, buon pomeriggio. C'è qualcun altro che vuole provare? Qualcun altro se vuole intervenire? Grazie. 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 E allora, qualcun altro vuole provare ad intervenire? Basta, come dicevo prima, cliccare sulla manina in modo tale da poter ricevere la parola dal coordinatore del webinar, che sono io, Ettore Ruggero, sono qui a Bari e tra qualche minuto ci collegheremo con Alona una mitica di Treksoft per il nostro webinar di oggi sul tema Digital Experience Solutions per Tour Operator, DMC e DMO ad enti del turismo. Ancora qualche minuto, aspettiamo che altri si colleghino e qualcuno che vuole provare ad intervenire, basta cliccare sulla icona della manina e quindi poi chiedere di intervenire. Quindi Martina Baldo, quindi attivo l'audio, ovviamente dovete avere un microfono funzionante, collegato. Martina, ci saluti, ci ascolti, ci vedi correttamente? Forse hai problemi di microfono, dovresti attivare il tuo audio. Qui sentite? Qui adesso sì, perfetto, buonasera. Tu partesti da dove? Io sono di Treviso. Io sono di Treviso. Ok, quindi penso che sia molto facile l'uso della piattaforma, quando daremo spazio alle domande e ai primi interventi, con la manina potrai prenotare il tuo intervento. Grazie. Il vi ascolti correttamente, quindi anche la prima slide è già in onda? Sì, tutto perfetto. Sì, tutto perfetto. Benissimo, grazie e allora a dopo un webinar. C'è qualcun altro che vuole intervenire? C'è qualcun altro che vuole intervenire? C'è qualcun altro che vuole intervenire? In modo tale da non avere o creare piccoli disturbi. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Però così proviamo in questa prima fase di riscaldamento. Come dicevo, buonasera a tutti. Per chi si collegasse in questo istante, tra qualche minuto inizieremo il nostro webinar e quindi con l'esperta di oggi all'una mitica di Treksoft e lavoreremo insieme su questo tema estremamente interessante delle Digital Experience Solutions per i tool operator e i DMC e DMO ed enti del turismo. Se qualcuno vuole provare che tutto quanto funzioni, in particolare il tool della richiesta di intervento, basta cliccare sulla manina verde che avete al lato del pannello di controllo in modo tale che prenotate la richiesta come sta facendo adesso Vincenzo. Buonasera Vincenzo e quindi poter intervenire. Vincenzo ci ascolti, tutto bene? Io ascolto, ascolto benissimo. Salve, buonasera a tutti. Buonasera, tu partecipi da? Da Palermo. Benissimo, perfetto. Colgo l'occasione per dire che i primi di aprile a Catania, non so se anche a Palermo, probabilmente a maggio, noi terremo un workshop sul turismo esperienziale, quindi poi ci teniamo in contatto, se avrai il piacere di poter, di voler partecipare, poi ci teniamo in contatto. Quindi come hai fatto, quando vuoi puoi alzare la manina per chiedere di intervenire nei momenti in cui daremo lo spazio a tutti. Grazie Vincenzo. Perfetto, ok. Grazie a dopo. E ancora qualcun altro? Vuoi provare? Un saluto a Martina che non può interagire con l'audio, ma che ha confermato che tutto funziona. ciao Martina, eventualmente puoi inviare sulla chat qualche messaggio, come ricordavo prima i messaggi potete inviare a tutto l'intero gruppo o solo all'organizzatore o solo al relatore. Nel caso specifico l'organizzatore sono io, Ettore Ruggero e la relatrice che si collegherà tra qualche istante all'una vittica. Qualcun altro vuol provare ad intervenire? basta cliccare la manina e così da poter provare e anche darci un feedback che l'audio e il video siano ok. Nel frattempo si stanno collegando altri. Stefania ci chiede di intervenire. Buonasera Stefania. Stefania ci senti? Stefania? Stefania sei in linea, se ci dai un feedback puoi parlare. Stefania? Stefania? Quando vuoi puoi provare l'audio e darci un feedback che tutto funzioni correttamente. Stefania ci senti? Nel frattempo si stanno collegando altri partecipanti. Buonasera a tutti. Stiamo facendo delle prove preliminari e fra qualche minuto inizieremo con il nostro webinar sul tema Digital Experience Solutions per tool operator. Se qualcuno vuole intervenire ricordo che adesso per provare e poi durante il webinar, negli spazi che dedicheremo al dibattito e alle domande, basta cliccare sull'icona della manina che trovate alla sinistra del pannello di controllo e sotto il microfono e quindi prenotare il vostro intervento. Se qualcuno che non l'avesse ancora fatto vuole provare, in modo tale da poter anche avere da parte nostra un feedback. Stefania Cianchetti ci senti? Hai l'audio aperto, quindi potresti salutare? No. Va bene, vediamo un altro momento. Qualcun altro che vuole salutare? Stefania Cianchetti. Stefania comunque ci ha detto che ci vede e ci sente correttamente. Stefania Cianchetti. Lorena Villa. Alessia vuole intervenire? Alessia ci senti? Poi Alessia dovresti attivare il tuo audio e dopo di che poter parlare. anche Natalia può intervenire se vuoi. Dovreste attivare il vostro audio e il vostro microfono. Natalia ci sei? Buongiorno a tutti, sì? Ok, buonasera. Tutto bene? Ci ascolti? Ci vedi correttamente? Tutto bene, tutto bene. Un'altra volta quando volevo parlare l'audio era disattivata, quindi non riuscivo a chiedere, a fare la domanda, ecco. Questo non riesco a capire. Va bene. Quindi adesso quando apriremo il dibattito, se vuoi intervenire o fare domande, basta cliccare una manina e poi in ordine di priorità io darò la parola. Va bene, meraviglioso. Grazie, grazie mille. Ci segui da dove? Io seguo da Torino, da Torino. Perfetto, va bene, buon webinar, a dopo. Grazie, a dopo, a dopo. Qualcun altro vuole intervenire? Sì, qualche minuto ancora e poi iniziamo. Va bene, allora io proverei a vedere se è collegata a Lona, se in modo tale da poter, nel giro di qualche minuto, iniziamo a incominciare, anche se manca l'accesso di molti che si sono iscritti. Quindi aspettiamo qualche minuto, ma non troppo anche per il rispetto di chi è stato puntuale, anche perché come al solito il webinar durerà un'ora, quindi per le quattro ovviamente chiuderemo. Se qualcuno vuol provare l'audio, dovrebbe poter cliccare sulla manina, così anche verifichiamo che lo strumento sia stato individuato. La manina che è al lato del pannello di controllo, sulla sinistra, il concino verde, e chi vuol provare può prenotarsi come poi sarà possibile durante il webinar per fare domande o di intervenire, in modo tale che io possa dare la parola, possa accendere l'audio per tutti. Stefania vuol provare il microfono, se riesce a salutarci, se il suo microfono funziona, vediamo. Qualcun altro che è in linea vuole provare a prenotarsi cliccando la manina, l'icocina verde. in modo tale da poter anche dare un feedback che tutto funzioni correttamente. Stefania, vediamo se adesso funziona. Stefania, ci senti? Ancora qualche problema al microfono? Probabilmente. Ok. C'è qualcun altro che vuol provare lo strumento della richiesta di intervento? Può tranquillamente cliccare sulla iconcina della manina, come sta facendo adesso Pasquale. Buonasera Pasquale. Ciao. Ciao. Tutto bene? Ci vedi correttamente? Sì. Voi mi sentite? Tu partecipi? Da dove? A terra. Benissimo. Capitale della cultura 2019. Bene, quindi quando vuoi potrai intervenire alzando la manina in ordine di prenotazione ti verrà data la parola. Grazie e buon pomeriggio. A dopo. Ciao. Stefania non riesce a utilizzare il microfono. Qualcun altro vuol provare in modo tale che poi, ancora un minuto e diamo inizio al nostro webinar. Se Alona è collegata. Ciao Ettore, mi senti? Sì, buonasera Alona. Allora, qui man mano altri partecipanti si stanno collegando, però io direi che sono già le 3 e 5 e quindi partiamo. Se puoi attivare il tuo video eccoci qua. Bene, allora, a me il piacere di introdurre Alona, qualora qualcuno non mi conoscesse, io sono Ettore Ruggero che ordino l'Artess Academy che promuove questi webinar sulla innovazione della cultura del turismo e in particolare sul turismo esperienziale. siamo oggi molto lieti di avere con noi Alona Mittiga di Treksoft che è una società con la quale abbiamo condiviso in quest'ultimo anno un percorso insieme all'Associazione delle Startup Innovative in Italia e quindi ci fa molto piacere che possa raccontarci e testimoniare il bel lavoro che stanno facendo e nel loro specifico che ovviamente è il settore dell'Information Communication Technology applicata poi al nostro settore turistico. e quindi mentre qualcun altro si collega e dò il benvenuto, io direi allora Alona una tua presentazione, ci dici per quanti ancora non conoscesse Treksoft cosa fate di bello e quindi partiremo alla scoperta di questo tema estremamente interessante delle Digital Experience solutions per i tour operator, i DMC e i DMO e gli enti del turismo. Come vedete l'approccio è a tutti gli attori del sistema turistico che hanno la necessità come vedremo di poter utilizzare gli strumenti web based e comunque la tecnologia, gli ultimi aggiornamenti tecnologici per poter progettare e gestire e avere relazioni positive con il mercato che è uno dei temi che ci sta particolarmente a cuore. Allora buonasera, grazie di essere con noi, a te la parola. Grazie a te Ettore, buonasera a tutti e soprattutto grazie mille per l'invito a questo webinar che ci tengo davvero tantissimo. Come diceva Ettore appunto con Artes abbiamo iniziato il nostro percorso all'incirca settembre dell'anno scorso in un evento a Milano e mi fa piacere appunto proseguire questo percorso appunto nell'esperienza digitale insieme anche durante questo webinar. Benvenuti a tutti, oggi vi parlerò appunto come diceva Ettore di Digital Experience Solution per tour operator DMC e denti del turismo. Ora qualsiasi domanda, qualsiasi informazione io cercherò di essere il più chiara possibile, ma nel momento in cui avete un qualcosa che non è chiaro, alzate la mano appunto Ettore mi farà sapere così possiamo trattare le domande insieme. Vorrei che questo webinar fosse il più interattivo possibile. Qualcosina su di me appunto come diceva già Ettore, sono una mitica e vengo, sono di origine ucraina e quindi sono nata in questa bellissima città che è Odessa, sul Mar Nero. In seguito mi sono trasferita in Italia, Reggio Calabria, dove ho iniziato il mio percorso di studi laureandomi in Scienze Economiche all'Università Mitterranea, un'altra città molto bella appunto costiera che vedete qui in alto a destra. In seguito ho cambiato paesaggio trasferendomi nella bellissima Toscana dove ho frequentato il corso di laurea in Marketing e ricerche di mercato laureandomi nel 2015. Ho anche intrapreso qui la mia carriera nel marketing lavorando per diverse start up digital e poi anche l'esperienza più importante in Piaggio lavorando con brand come Vespa e Motoguzzi. Attualmente sono a Interlaken che è questa bellissima città qui, un paesaggio totalmente diverso dal mio usuale, delle Alpe Svizzere, cittadina piccolissima dove appunto ha sede la nostra azienda Treksoft. Io ci lavoro da circa un annetto e mezzo, sì. Cosa facciamo in Treksoft? Treksoft è un'azienda che nasce nel 2010 e noi ci occupiamo di soluzioni per prenotazioni e pagamenti online. Nello specifico siamo per, come vedete qui, l'elenco di clienti che di solito utilizzano nel nostro prodotto, sono tool operator, agenzie di viaggio, specialmente incoming, ma anche destination management, organization e companies, enti del turismo e anche accoglienza. Adesso vi spiegherò bene bene tutti le nostre caratteristiche principali, però vorrei far vedere questo piccolo video che un pochino riassume il nostro mondo. Spero che si senta. No, you didn't start your tour and activity company to stay inside. Your activities are not based in an office, so why should you be? The Treksoft app lets you take your office with you. Now you can take bookings and accept credit card payments on your iPhone or iPad anywhere, anytime. Let passengers book whatever they want and never miss another booking. Smoothly process check-ins right at your departure point. Scan and validate ticket QR codes with an integrated reader. You upcoming departures and passenger lists. Adjust available seats and open new tours. With Treksoft, your business is always up to date. Treksoft, make sure you can sell directly via any channel, online, offline, website, mobile site, sales desk or telephone. Treksoft, spend less time managing and more time making sure your guests have the experience of a lifetime. The Treksoft app lets your booking engine work like you do. Ecco, spero che l'audio avete sentito tutti. Sì, sono una bella, molto bella, grazie. Questo quindi è un attimino un riassunto, una panoramica globale, ma adesso ovviamente descriverò i vari punti un pochettino più avanti. Come dicevo prima, è un'azienda che nasce nel 2010, che nasce come una start up. Infatti all'inizio il nostro CEO, che era una guida rafting in Nepal, in India, ha iniziato in un ufficio piccolissimo con 2-3 persone. Attualmente abbiamo un team di più di 100 dipendenti, multinazionale, che appunto raccoglie ragazzi di età media, 25-30 anni, nella nostra capitale che è appunto Interlaken. Lavoriamo con worldwide, quindi con clienti in più di 130 paesi e siamo vicini appunto al numero di 1.500 clienti in tutto il mondo. Il focus strategico di Treksoft è appunto l'Europa. In particolare io mi occupo del mercato italiano. Questa foto appunto rappresenta la nostra squadra durante la settimana che solitamente facciamo appunto per legare, per stringere, per condividere i valori dell'azienda e mi piacerebbe tantissimo condividere con voi questo momento proprio per far capire come l'azienda sia legata al settore del turismo. Quindi qui ho inserito un altro piccolissimo video che purtroppo attualmente, come dicevo, siamo circa 100. Tutti quanti a Interlaken ma anche a abbiamo una sede. Mi sentite? Vorrei far vedere appunto questo piccolo video. Un sacco non carica. Vediamo se riusciamo a farvelo sentire un pochettino più avanti. Parlando invece, tornando invece al nostro tema di oggi, su cosa vorrei concentrarmi? Oggi vorrei parlarvi dell'importanza del digitale nell'industria del turismo. Che cosa realmente vuol dire esperienza digitale? Proprio perché con Artest si fa marketing esperienziale. Noi ci teniamo tantissimo all'esperienza che ormai è diventata la chiave di tutto e quindi vi vorrei parlare di un'esperienza digitale sia per voi ma anche soprattutto per i clienti finali. Infine vi vorrei presentare i benefici principali che derivano dalla nostra piattaforma che è una piattaforma appunto inclusiva di tutti e di tantissime caratteristiche. Sto fermandomi soprattutto sulla collaborazione e distribuzione tramite marketplace e infine vi voglio fare qualche esempio relativo appunto al mercato Italia. Partirei proprio da questo, da questa bellissima immagine dove ci sono due persone che vivono una cena romantica in un posto davvero strano, straordinario direi, una zattere in mezzo al mare. Questo perché? Per parlare proprio di esperienza. Non più un comune modo di vivere una cena dentro il ristorante, bensì un'esperienza unica all'interno appunto di un contesto davvero naturale, magico. Questo perché? Perché le esperienze conducono ad una destinazione. Le esperienze, i viaggi esperienziali come appunto ci dice Skift rappresentano senza dubbio il trend più significativo del momento. Cosa vuol dire viaggi esperienziali? Vuol dire offrire un viaggio coinvolgente, unico, autentico, locale. Di esperienze ormai si parla tantissimo. Vuol dire le persone vogliono vivere ambienti esplorati nel modo più autentico possibile. In questa immagine infatti due ragazzi stanno visitando Venezia però non sono più portati loro dal gondoniere, bensì sono loro stesse a guidare. Quindi vogliono vedere posti e destinazioni mai viste prima appunto da contatti amici. Si ha voglia proprio di vivere un'esperienza unica. Un'esperienza che permette anche di costruire relazioni autentiche, quindi non si pensa più al cliente come proprio al cliente, bensì ad un amico. Un amico a cui dare l'indipendenza, di decidere la propria giornata, di decidere la propria esperienza, di personalizzarla, renderla appunto adatta alle proprie esigenze. E soprattutto, come dicevo, in tutto unicità. Ma questo in un contesto digital cosa significa? Significa che il viaggiatore sì, è vero, vuole vivere un'esperienza, ma vuole viverla anche a contatto con il digital. Infatti qui il tech traveler, che è un viaggiatore tecnologico, appunto questi sono alcuni dati della nostra ricerca, viaggia per il 44%, vuole programmare appunto il suo viaggio via smartphone. Ormai siamo tutti attaccati con un cellulare, un smartphone e questo si ripercuote anche nel settore travel. Il 52 invece prevede di usare sempre di più le app di viaggio nel 2017. Quindi ormai la tendenza del digitale è un qualcosa di concreto, di reale. Non si può più farne a meno. Questo punto è evidenziato anche da una nostra recente, una ricerca proprio molto recente, di dicembre 2017, gennaio 2017, scusate dicembre 2016, quindi fine anno, inizio 2017, condotta sulle DMO, Destination Management Organization. Noi ci siamo focalizzati appunto su queste aziende chiedendo a un campione di circa 60 aziende che valore avessero, appunto, che valore hanno le esperienze. Le esperienze sono parte vitale della loro strategia per il 57% del nostro campione. Però come vedete in questo slide emerge un dato molto interessante, ovvero le spese di investimento concreto che si focalizzano nelle esperienze sono il 73% del budget contro un 27% verso l'ecommodation. Questo però poi non si rispecchia, non si rappresenta nel totale, in come vengono mostrate al pubblico, in quanto infatti un cliente che va a visitare un sito web di una DMO ha la possibilità di prenotare sul loro sito web in tempo reale soltanto il 16% delle esperienze, che contano il 57% delle accommodation. Questo proprio rappresenta che cosa? Che è vero e chiaro che le esperienze rappresentano un punto focale dove c'è tantissimo investimento, però ancora c'è un passaggio da completare che è appunto quello finale del planning, della decisione, del booking, ovvero della prenotazione in tempo reale delle experience. Per quanto riguarda invece le esperienze digitali, qua abbiamo posizionato, abbiamo realizzato questa piramide in Trexoft che mi piacerebbe appunto raccontarvi oggi, una piramide che descrive appunto il passaggio, le tre principali caratteristiche che deve avere per essere appunto digitale e memorabile. Innanzitutto l'educazione dei operatori. Ci tengo tantissimo proprio perché anche noi in Trexoft facciamo diverse attività come laboratori digitali del turismo. L'educazione è il passo di base per tutti, proprio perché un'azienda del turismo non può operare in un settore digitale senza avere senza dare la possibilità ai propri operatori di conoscere questo digitale. Mi viene in mente anche tantissimi corsi che anche Artes fa per gli operatori del turismo. Soprattutto questo rappresenta proprio la base, istruire gli operatori. E alla fine c'è un passaggio centrale, ovvero quello di capire che ormai non si sta offrendo un prodotto, non si offre una singola attività o un pacchetto, si offre un'esperienza. Quindi il passaggio da prodotto ad esperienza è davvero fondamentale per chi opera adesso nel settore del turismo. E alla fine il contenuto, il content is king, vuol dire proprio che la chiave di tutto è offrire un contenuto di valore, dare un qualcosa, un'informazione che sia rilevante per il turista, per il cliente. Infatti dalla ricerca appunto che vi citavo poco fa sulle DMO, una delle sfide principali per loro è offrire dei contenuti attraverso blog, attraverso newsletter, che siano appunto informativi al massimo. Infine in questa piramide è diciamo delineata dalla tecnologia, ovvero la tecnologia non rappresenta più il driver principale, è il motore, è vero, però deve essere utilizzata con cautela. Ovvero questo significa che la tecnologia non può arrivare a dire sì, prendo questa tecnologia e iniziare ad operare. Bisogna trovare una strategia propria adatta al proprio mercato, alle proprie esigenze e quindi prima di buttarsi in un qualsiasi strumento digitale è bene pensarci, è bene studiare proprio le proprie caratteristiche. Allora posso farti una domanda? Sì, certo, assolutamente. Mi sembra che l'originalità della vostra proposta, che è una proposta tecnologica, sia data dal fatto che chi ha creato l'azienda era un appassionato di esperienze turistiche e quindi probabilmente ci ha messo tutta la sua esperienza, ovviamente con tutto lo staff, mi piacerebbe sapere un po' di più su questo aspetto, proprio per comprendere la specificità della vostra proposta che non è una mera soluzione tecnologica, un pacchetto come ce ne sono tanti, ma è un qualcosa di sottolineato da un qualcuno che il turismo lo ha praticato, lo ha vissuto. È un qualcosa che mi piace che è sottolineato, infatti mi dispiace che non si vede il video che volevo tantissimo farvi vedere, adesso ci provo ancora, proprio perché... No, non ha problemi alla rete, qualcuno mi ha detto che poi ha difficoltà, però sediamo l'indirizzo della pagina Facebook, così poi... Potete prenderlo su Plexoft, esatto, sulla pagina nostra ufficiale di Facebook potete trovarlo, ci sono tantissimi video, tra cui uno è quello che descrive l'esperienza che noi viviamo ogni giorno con la turistica, appunto perché i nostri capi sono stati talmente bravi a trasmettere e a unire una squadra che viva il turismo, che viva l'industria prima di vivere la tecnologia, quindi per essere assolutamente a contatto con la realtà. Grazie. Visto che abbiamo diversi partecipanti, anche nuovi oggi, volevo avviare un primo sondaggio, poi mi dici tu quando fai l'altro che ci hai preparato riguardante le esperienze da prenotabili online. Ma questo primo sondaggio che ci consente di capire chi conosce già il nostro progetto e la professione del turismo esperienziale, si può votare in modo tale che ci fate comprendere, se siete veloci così non togliamo tempo ad Alona, se tutti hanno votato nel giro di qualche secondo poi vediamo il sondaggio e lo commento brevemente. Se c'è qualcun altro vi devo ancora votare, altrimenti chiudiamo qui. Bene, quindi i risultati sono questi, c'è una fascia di persone che sono quelle che probabilmente ci hanno già seguito in qualche altro webinar o che sono i nostri operatori che quindi ci conoscono e la gran parte conosce un po' e un poco, quindi vi invito non solo a vedere come abbiamo detto la pagina Facebook di Tracksoft, ma anche di interagire con il nostro sito per conoscerci di più e per comprendere in che modo, se avete piacere, lavorare insieme o diventare, qualora vi possa interessare, degli operatori per il turismo esperienziale. Bene, e allora al di... Perfetto, adesso riprendo appunto quello che vi sto raccontando, ovvero le opportunità digitali. In un mondo così digital è giusto, mi sentite, vero? Ettore mi confermi? Si vede, si sente bene? Sì, sì, certo, vai. Perfetto. Quindi le opportunità digitali principali da cogliere nel settore del turismo sono l'ottimizzazione per i cellulari. Questo ormai è un qualcosa su cui ci tengo tantissimo a sottolineare perché proprio due giorni fa mi è capitato di andare a cercare io stessa come cliente un'esperienza rafting qui in Lombardia e dei siti che sul cellulare, che ero proprio in movimento, ero in intram, non riuscivo a visitare. E quindi quelli erano magari opportunità che sarebbero state interessanti per me come cliente ma che non riuscivo a raggiungere proprio perché il sito non si vedeva, era impossibile da visitare tramite il mobile. E poi inoltre un'altra caratteristica, un'altra opportunità da accogliere sicuramente oggigiorno è offrire prenotazioni e pagamento online e offline. Non solo l'offline ma anche online. Vuol dire che il cliente nel momento in cui si trova catturato dall'immagine dell'esperienza vuole prenotare e pagare direttamente. E tutto questo ovviamente è anche la prenotazione e il pagamento tramite il mobile. Ora passando invece un pochettino a come queste opportunità sono davvero realizzate vi volevo presentare un attimino un esempio. Ecco per esempio a Roma un tour del Colosseo Night Experience, un qualcosa di particolare e curioso. L'operatore che di solito organizza questa esperienza è condizionato per esempio dalla disponibilità dei posti in quella determinata data e anche deve organizzarsi magari con dei partner locali come transfer, come guide e così via. Quindi una giornata tipica, ho messo qui un riassunto, non so se poi mi confermerete o meno, è telefonate, email, fax, elaborare prenotazioni, tutto quanto con una perdita di tempo che influisce tantissimo sul lavoro. Anche l'insicurezza sulla disponibilità in tempo reale. Se magari avete degli operatori che collaborano con voi, come si fa realmente a sapere se quel tour è il completo o meno? Una fatturazione disordinata, ma anche mal di testa e stress. Il nostro obiettivo in Tracksoft è duplice, perché appunto vi parlavo di esperienza digitale sia per l'operatore ma anche per il cliente finale. Proprio perché vogliamo regalare al vostro cliente una customer experience memorabile, quindi un'esperienza di cliente digitale, veloce, rapida, adatta appunto al tempo in cui stiamo vivendo. Ma anche per voi, per gli operatori, appunto di vivere il vostro lavoro come una passione organizzata e funzionale, non più come uno stress. Partendo dal primo punto, regalare al customer un'esperienza memorabile. fin dal momento di ricerca e quindi di prenotazione, dal sito della vostra esperienza. Ecco, qui per esempio... ...che Tracksoft, stress soft. Consentevi la parola. Certo. Nel senso che viaggio famoso sarà l'opportunità che i vostri strumenti danno di far vivere l'esperienza sin dalla prima fase della prenotazione o prima ancora della ricerca dell'esperienza più adatta alla propria voglia di viaggio. Esatto, esattamente. Proprio vivere tutto con un attimo più di tranquillità. Perché questo? Allora, qua innanzitutto stiamo vedendo il processo dal punto di vista del cliente. Quindi io sono un vostro potenziale viaggiatore che capito, per esempio, su questo sito web che è di un nostro cliente, Travel, etc., che offre shopping e dinner a Positano. Quindi shopping e cena. E ha subito qui un pulsante che quello prenota adesso. Lo dice benissimo, io voglio vedere Positano e fare shopping e mangiare. schiaccia prenota, quindi processo di acquisto immediato, ovviamente ha la possibilità anche sotto di avere più informazioni, capire tutti i dettagli del tour. Nel momento in cui lui schiaccia prenota, in tre semplici passaggi, ovvero calendario, ospiti e check out, ha la possibilità di acquistare la sua esperienza. Qui vedete che è grafica semplice, booking calendar e prezzi chiari. Lui procede in tre clic, aggiunge tutto al carrello, accetta le vostre condizioni, i vostri termini di servizio, paga adesso e con tre clic effettua il pagamento. E riceve subito il ticket in mano. Questo vuol dire che il cliente, nel momento in cui, soprattutto questo è molto importante per chi fa incoming dall'estero, riesce ad avere in pochi passaggi appunto la sua esperienza prenotata. E come vedete qui, questo è un esempio di ticketing con il codice QR sopra, che vedete qui, che proprio può essere scansionato per evitare magari duplicazioni di biglietto al momento dell'arrivo al tour. C'è anche un percorso, una mappa e tutto il riassunto, insomma. In pochi passaggi ecco l'esperienza digitale del vostro potenziale appunto cliente. Invece per voi che siete operatori, in che senso volevo dire proprio semplificare tutto il vostro lavoro? Proprio perché siamo una piattaforma all-in-one che offre sia un sistema di prenotazione, ma anche dalla possibilità di costruire il sito web, di gestire le risorse, le guide, ma anche per esempio i mezzi. E siamo anche una piattaforma di pagamento, che permette quindi di pagare direttamente l'experience e permette anche di distribuire tramite il channel manager su importanti marketplace, come per esempio Viator. E tutto quanto ovviamente, tutto questo processo di prenotazione, gestione e pagamento tramite il cellulare mobile. Andando nel dettaglio, non mi voglio soffermare perché sono davvero tantissime caratteristiche. Ditemi voi quando c'è qualche domanda o se su qualcuna volete un approfondimento. Noi permettiamo di... Per una carrellata possiamo aprire il dibattito, domande che ti consentano di approfondire specifiche richieste. Perfetto. Ok, allora una carrellata rapida proprio per rendervi un attimo l'idea di cosa sono le potenzialità del nostro sistema. Quali sono soprattutto i benefici? Come dicevamo prima, un sito web che possiamo costruirvi, ottimizzato appunto per i cellulari, con un software di prenotazione già integrato. Ovviamente per chi ha già il proprio sito web non c'è nessun problema perché si può integrare appunto con la nostra soluzione di pagamento e prenotazione. Gestire le risorse vuol dire organizzare le capacità, le guide, aggiornare le guide in tempo reale, mentre una persona prenota la visita a Positano da casa, parte un messaggio automatico alla guida, vede che a quell'ora sei disponibile, sei disponibile insomma per quell'attività. E soprattutto evitare l'overbooking, ovvero il sovraccarico di prenotazioni per la determinata attività. Gestire il business in movimento. Il turismo non è fatto per stare dentro una stanza. Gli operatori del turismo ne conosco davvero pochi che passano la maggior parte del tempo all'interno dell'ufficio. Questo vuol dire che si possono, per esempio, pianificare delle email automatiche. Con il biglietto, con il riassunto del percorso, ma anche di follow up soprattutto, per esempio per ringraziare e offrire dei codici sconto. Fidelizzare quindi il cliente. Visualizzare tramite la nostra app anche l'inventario, le vostre prenotazioni. E soprattutto accettare pagamenti da qualsiasi dispositivo. Ecco, sul cellulare potete gestire la vostra attività, sul tablet anche. E farlo, soprattutto questo, ci tengo davvero a sottolinearlo, farlo 24 su 7. Questo è importante perché? Perché nel momento in cui, per esempio, la giornata siete fuori dall'ufficio e qualcuno vuole prenotare e pagare, ha la possibilità di farlo tranquillamente. oppure quando, qui sono per esempio adesso le 4, le 3 e mezzo, in America è ancora mattina e qualcuno sta dormendo. Quindi al momento, gestire appunto soprattutto i clienti con il fuso orario che dall'America, dalla Cina vogliono prenotare, ci sono questi, diciamo, disguidi, cosiddetti, un pochettino più legati al timing. Accettare pagamenti ovunque, questo vuol dire anche con sistemi di app mobile, con card reader che vedete in questa immagine, potete collegare tranquillamente il card reader al vostro device, in questo caso al cellulare, e far pagare chi arriva presente all'ultimo, chi si aggiunge all'esperienza. Parlando invece di collaborazioni e distribuzione, ecco, io ci tengo tantissimo perché ci tengo a sottolineare che la collaborazione è il successo del, secondo me, è la base di un'attività di successo nel turismo. Ci tengo tantissimo perché nei vari incontri che noi anche organizziamo, anche che abbiamo fatto con Artes, abbiamo appunto voluto sottolineare l'importanza di collaborazione e cosa può davvero portare. E anche questo si rispecchia nel nostro software, perché proprio abbiamo una sezione partner network che permette, per esempio qua, ho citato tre realtà della zona di Interlaken dove appunto abbiamo sede, Outdoor Interlaken, Interlaken che è l'ente del turismo locale di Interlaken e Bus to Alps rivendono le attività, fanno proprio cross-selling, ovvero le attività di Outdoor le trovi sul sito, sul portale di Interlaken e così via anche per Bus to Alps. Bus to Alps fanno scambio di activities, di esperienze, creando così un piccolo marketplace su misura, dove le persone vogliono vivere un'esperienza, però completa, quindi quello che non riesci ad offrire tu, magari potrebbe offrirlo un tuo partner. In questo caso guadagnare ovviamente di visibilità. Agenti e soluzioni post, questa è una caratteristica importante per chi per esempio distribuisce le proprie experience attraverso anche altri partner, come per esempio strutture ricettive, alberghi, ostelli, anche ristoranti. Invece di lasciare la propria brochure lì abbandonata, che magari qualcuno arriva, la prende, la dimentica, la butta, l'host può raccomandare la vostra, l'albergatore, il consierge, può raccomandare la vostra experience e avere subito l'accesso a un'area esclusiva pensata proprio per lui come agente dentro la piattaforma Trexoft, dentro il vostro account. E quindi distribuire appunto anche tramite questi partner. Channel Manager ci tengo tantissimo perché abbiamo la possibilità di collegare e quindi gestire l'overbooking di prenotazione tramite, diamo questa possibilità appunto tramite il nostro Channel Manager che vi permette di collegarvi con marketplace come Viator, come Musement, ecco, non so quanti di voi utilizzano queste piattaforme che sono proprio specifiche per l'experience, però vi consiglio per chi ha potuto ancora... Sì, mi sembra che abbiamo pensato proprio, mi incuriosisce sapere se chi di voi utilizza queste piattaforme, questi marketplace per distribuire... Sì, mi sembra che abbiamo pensato proprio, mi incuriosisce sapere se chi di voi utilizza queste piattaforme, le tue esperienze possono essere prenotate in tempo reale online, la situazione un pochino dei nostri partecipanti, quindi se hanno sistemi di prenotazione online o se non ancora sono attrezzati per poterlo fare. Vediamo un pochino, se tutti quanti rispondono al sondaggio velocemente, vediamo un pochino, ancora qualcun altro, prego di essere velocissimi, e allora chiudiamo il sondaggio, ancora qualcun altro, perfetto, vediamo un pochino, questi sono i risultati, non so se li vuoi commentare, nel frattempo io partirei anche con un altro sondaggio, subito dopo, proprio per capire quali sono le piattaforme. Che ne dici, Alona? Perfetto, sì sì. Allora, commenterei entrambi i sondaggi, proprio avendo i risultati di entrambi. Su quale marketplace distribuite le vostre esperienze? Ovviamente quelli che ci hanno risposto positivamente, vediamo un pochino qual è il risultato del sondaggio, quali sono i marketplace più utilizzati per la distribuzione di servizi di prenotazione circa iniziative esperienziali. Ancora, ancora qualcuno se può completare la votazione? Ancora qualche istante, prego di affrettarsi. Votato tutti. Bene, chiudiamo il sondaggio. Questi sono i risultati, Alona. Perfetto, grazie, Ettore. Sì, vedo che sono contenta per Musement, che è proprio una piattaforma italiana, che comunque funziona a livello mondiale. Anche Get Your Guide ed Expedia, perfetto. Bene, mi incuriosisce il risultato di Viotr, perché Viotr è un'azienda di TripAdvisor, in realtà. TripAdvisor penso che lo conosciamo un po' tutti, sì, perché appunto è veramente un brand, un colosso. Ecco, scusate, ho dimenticato la webcam. Però, credetemi, suggerisco a tutti di chi offre esperienze online, proprio e soprattutto chi opera con l'estero, di dare un'occhiata anche a Viotr e anche Veltr, in particolare per il mercato asiatico. Ok, grazie. Grazie a tutti che hanno partecipato, ringrazio per la collaborazione. Incominciatevi a tenere pronti per fare una raffica di domande su tutto quello che ci hai iniziato a raccontare a l'ona. Comunque, a te la parola per proseguire, completare un po' il quadro. Esatto, l'ultima, non voglio, davvero, sono tantissime caratteristiche, proprio, è un software da seguire, da scoprire passo per passo, ma pensato appositamente per l'industria del turismo. Questo ci tengo a sottolineare. Pensato da persone che lavoravano nel turismo, quindi, soprattutto il nostro CEO, John Favre, che era una guida rafting, come dicevo lì. Un'altra caratteristica, su cui mi soffermerei giusto brevemente, è contabilità e reportistica, ovvero monitorare le vostre vendite, il fatturato, il cash flow all'interno della nostra piattaforma, con grafici come, per esempio, potete vedere qui sotto, è possibile, appunto, avere sotto mano sempre un qualcosa di aggiornato che vi permette di capire dove investire e cosa migliorare. Altro, ebbene, sì, altro, abbiamo aggiunto a novembre 2016, quindi da un paio di mesi, una caratteristica importante che è l'accommodation feature, ovvero, ebbene, noi non siamo un software per alberghi, grandi catene alberghiere e così via, però per chi vuole offrire un'attività, un'attività legata anche a un pernottamento, in gestione di piccole strutture, per esempio, è possibile farlo anche dalla nostra piattaforma direttamente. Quindi, per offrire un multi-day tour, per esempio, con attività, ma anche un albergo, un piccolo residence, una struttura ricettiva, è assolutamente possibile. Passando, invece, alla parte più interessante che mi piace, appunto, raccontarvi, è alcuni esempi, appunto, del mercato italiano, proprio perché io mi occupo, sono a stretto contatto con gli eventi, questo per esempio qua vedete, Irene Chimenti di Italiana Budget, che è una nostra cliente, che ho incontrato proprio a Firenze durante il nostro laboratorio digitale del turismo, recentemente, proprio due settimane fa circa, ecco. Irene ha un sito che offre esperienze in Italia per un target specifico, ovvero 18-39 anni. Lei organizza tour, diciamo, su budget, quindi esperienze che possono essere accessibili, appunto, dal target preso in considerazione in tutta Italia. All'inizio era partita da Firenze, dove hanno la sede, e adesso, appunto, si è allargata. E qua ha conosciuto, è entrato in contatto con il nostro CEO, come dicevo prima, John, e ha, appunto, deciso di adottare Trexot in quanto era un sistema piuttosto semplice per costruire un sito web. Questa è la sua home page, chi è curioso può andare, appunto, a cercare, dove lei ha aggiunto questo tasto, grazie, appunto, a Trexot Book Now. Travel Exeter, invece, è diventato cliente, anche lui, da un annetto, un annetto e mezzo fa, e qua Marco Poglio Manzillo e i suoi colleghi, Nico, appunto, li abbiamo incontrati al WTM a Londra, io e il mio collega Giorgio. Qua, appunto, abbiamo avuto con loro, siamo diventati poi amici, ecco, proprio perché sono persone come noi che credono in quello che fanno, credono nell'experience. Questo commento, appunto, di Marco, che dice che la forza di Trexot sta nel fatto che in un unico prodotto può gestire sia i canali B2B, ma anche il B2C. Proprio come dicevo prima, può gestire i partner, gli agenti, i rivenditori, ma soprattutto può arrivare al cliente finale in maniera proprio semplice. Lui ha provato anche dei operatori locali, però quello che ci dice, appunto ringrazio tantissimo Marco, è che siamo 100 volte più veloci, proprio perché abbiamo 25 developers che sono gli sviluppatori tecnici che nel momento in cui arriva un'esigenza specifica del mercato, si mettono in pratica e in 3-4 mesi riescono a portare proprio concretamente la modifica. Questo è il suo sito, che appunto ho già usato come esempio nella mia presentazione, proprio perché mi piace tantissimo la sua semplicità. Meno è meglio. Ecco, lui offre un'immagine bellissima con un titolo specifico, chiaro, una cena romantica e il fascino di Positano. Potete andare a curiosare anche voi. Infine, Travel Before di Giancarlo Vitolo, invece, che si trova a Salerno. Loro, ecco, li abbiamo incontrati nel nostro evento sempre a Salerno, un meeting greet dove abbiamo incontrato gli operatori della zona. E quello che appunto ci ha commentato, che ha commentato a Giancarlo è di Trexoft, mi è piaciuto molto, per la possibilità di creare un portico per vendere il turismo esperienziale. Ecco, potete, sia di Giancarlo che di Marco e anche di Irene, potete vedere le interviste complete, quindi, sul nostro blog, se cercate blog Trexoft in italiano, potete leggere tutte le loro esperienze proprio legate sia al loro business che all'utilizzo del nostro software. Questa è appunto la panoramica bellissima. Sempre consiglio a tutti proprio di mettere immagini che sono davvero, hanno davvero un valore importante, ecco, sul cliente. Infine, quindi, non voglio veramente parlare di più, perché ci tengo a sapere cosa ne pensate voi e appunto a rispondere alle vostre domande. I key takeaways di oggi per me sono di offrire valori, sensazioni ed esperienze, quindi non si parla più di prodotto, non si parla più di un cliente standard, un cliente che ha davvero un bisogno concreto e va valorizzato. Ottimizzare il vostro tempo di lavoro proprio per poter vivere anche voi un'esperienza nel lavoro del turismo e non più un caos, una confusione, diciamo, un montare di lavoro davvero può essere a volte pesante. Gestendo come tutto in un'unica e soprattutto sia che offrite esperienze offline che online, rendere tutto unico, esclusivo e memorabile proprio perché la concorrenza c'è ed è tanta, quindi ormai bisogna puntare soprattutto sull'unicità, su offrire qualcosa che gli altri non offrono e farlo in maniera diretta, diciamo direttamente fruibile, quindi digital. Infine, ecco, grazie, io ho finito con la presentazione, volevo soltanto segnalarvi alcuni tools che abbiamo a disposizione, ovvero webinar come questi che abbiamo organizzato oggi con Artes. Abbiamo anche una libreria ebook che appunto parla di alcune tematiche molto interessanti, come qua abbiamo il Travel Trend Report del 2017 che potete appunto trovare sul nostro sito. Scriviamo tantissimo sul blog una mia collega Giulia che è bravissima e soprattutto ci incontriamo e veniamo spesso in Italia, ecco. Non so se qualcuno di voi ci siamo già incontrati con quelli che appunto sono in ascolto, però saremo settimana, non prossima perché sarò all'ITB, infatti per chi ci è all'ITB ci vediamo. saremo a Catania e Napoli, a Napoli il 16, a Catania il 21 di marzo con un laboratorio digitale del turismo. Appunto potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito. E infine ecco il momento che preferisco, ovvero quello delle domande, grazie a tutti appunto, ancora, e se volete appunto adesso fare le domande oppure scrivermele in privato, potete farlo tramite alonachioccia.com Grazie. Chi vuol prenotarsi può alzare la manina, come abbiamo avuto modo di spiegare prima, la manina che è posta naturalmente al pannello di controllo, l'icona verde. mentre si prenota qualcuno volevo farti una domanda, perché una domanda è una richiesta di approfondimento proprio sulla capacità del vostro sistema di favorire la collaborazione, il cross-selling. Se puoi dire qualche parola in più su questo, perché mi interessa moltissimo. Nel frattempo chi vuol fare domande può alzare la manina e io do la parola in modo tale che anche raccobriamo due o tre domande per la luna. Allora, rispondere alla mia. Perfetto, allora cross-selling vuol dire scambio di prodotti, ovvero qualche cliente a terra sul tuo sito web può vedere i prodotti che sono, lui vede le esperienze, non si parla più di prodotti, scusatemi, vede le diverse esperienze, non interessa a lui chi è che realmente offre l'esperienza, a lui interessa combinare diverse attività. Quindi per esempio fare la mattina paragliding e la sera fare una visita culturale storica. Quindi se tu non riesci ad offrire una di queste attività puoi collegarti con un tuo partner, metterti d'accordo, insomma è far vivere al cliente quello che lui realmente vuole. Questo dal punto di vista gestionale nostro c'è la possibilità di farlo, quindi di accordarvi, appunto cercare gli operatori che ho nella vostra zona, ma anche non, offrono delle esperienze che potrebbero essere interessanti per il vostro potenziale cliente e quindi offrire sul vostro sito web direttamente, tramite la nostra piattaforma, diverse esperienze. Ecco, cross-selling delle activities è proprio questo, la possibilità di scambiare le esperienze con i vostri partner, quindi in realtà l'accordo va fatto insomma da parte vostra. Noi possiamo suggerirvi degli operatori nella zona che usano Trexoft oppure nella zona di vostro interesse e voi poi ovviamente potete provare appunto a contattarli o conoscerli e iniziare a collaborare sotto questo punto di vista, ecco. Bene, do la parola a Michela Palmieri che vuole intervenire. Nel frattempo, così come ricordava Alona, saremo anche noi come artessa a Berlino, quindi se venite da quelle parti ci troviamo tutti quanti lì. Prego Michela, puoi intervenire. Michela? Ciao, eccoci. Ciao Alona. Ciao Michela. Sì, buongiorno. Allora, ho una domanda dalla tua esperienza. Volevo chiederti, per quanto riguarda gli utenti, nel senso che quando si promuove, si propone un'esperienza, mi ha colpito molto quello che hai detto riguardo la indipendenza, cioè la richiesta di indipendenza, cioè nel senso quando è la proposta di un pacchetto esperienziale, se è preferibile, cioè se notate che il cliente abbia bisogno di un margine di manovra, nel senso che in un pacchetto esperienziale viene dato a un'organizzato secondo una serie di combinazioni, ok, questo più questo più quello. Se per la tua esperienza potete darmi un consiglio rispetto al fatto che invece il cliente abbia bisogno di sentirsi libero di dire ok, in questo pacchetto prendo questo però mi svincolo perché voglio abbinarci un'altra esperienza. In su se sono stata clara. Sì, perfetto, chiarissima, assolutamente. Sì, guarda, ti posso dire assolutamente che la parola flessibilità in questo caso è indispensabile ovvero è vero che ci sono dei pacchetti programmati ed è difficile poi magari adattare per ognuno la propria le richieste potrebbero essere davvero infinite. In dipendenza voglio anche dire dare quella giornata un'ora o due perché il ritmo che magari puoi pensare tu adatto non potrebbe essere appunto adatto per quel cliente specifico. quindi flessibilità e indipendenza vale tantissimo. Mi sono trovata spesso come lato cliente in alcuni tour dove non potevo non avevo il tempo nemmeno di andare a prendere un caffè e nel momento in cui andavo sentivo la guida che mi rimproverava perché mi ero allontanata dal gruppo per esempio. Questo è assolutamente impensabile in un tempo come appunto di oggi dove si è l'esperienza e anche rilassarsi soprattutto assolutamente consiglio di provare anche a lasciare delle ore dei post totalmente liberi nella scelta proprio di fare un attimino un'attività magari comprare dei souvenir o prendere anche un caffè. Ecco. Grazie Allora c'è qualcun altro che può fare delle domande perché siamo addirittura d'arrivo è ancora cinque minuti quindi se qualcuno vuole intervenire ricordo che basta alzare un po' la mano e avere la possibilità di fare una domanda o di un breve commento su su quanto abbiamo ascoltato Quello che ci terrei Ettore permettimi di aggiungere è di capire soprattutto se la possibilità appunto del digitale ovvero di offrire un'esperienza anche tramite il digitale sia un qualcosa che vi sembra concreto oppure una realtà che magari non si dice la vostra non so ovviamente adesso quali sono i vostri business in quale settore particolare operate però mi piacerebbe sapere se è un qualcosa che vi può essere che vi sembra attuale interessante posso posso dire posso dare una piccola testimonianza sto vedendo che gli strumenti digitali in un certo qual modo completano e anche valorizzano quello che è il lavoro di agenzie di viaggio tour operator che vi è fatto ascoltando il cliente nella propria agenzia quelli che riusciamo ad avere nelle nostre agenzie o nei nostri uffici e paradossalmente è un'opportunità per conoscere nuovi clienti come dicevi tu il tema della fidelizzazione che il vostro strumento mi sembra aiuti moltissimo a fare perfetto no perché proprio nel sondaggio ho visto che era uscito che molti non offrono offerte non hanno la possibilità non danno la possibilità di offrire le esperienze online renderle prenotabili volevo capire se era perché proprio non era un obiettivo aziendale oppure perché al momento ancora ci stavano appunto si stavano facciando questo nuovo a questo nuovo metodo questo mi probabilmente ripeto parto sempre dalla mia esperienza non si è avuto modo di conoscere da parte di molti quello che è un prodotto anche abbastanza unico tipo quello vostro che proprio consente ed è focalizzato sulla prenotazione delle esperienze e non sulla prenotazione dei servizi tradizionali di alloggio che ovviamente i grandi i grandi presenti sul web riescono a garantire e che peraltro oggi vedono con grande attenzione anche il tema delle esperienze però un sistema così integrato è difficile trovarlo io ho provato un paio di anni fa a cercarlo ed è il modo con cui vi ho conosciuto peraltro grazie Ettore sì in effetti mi piace non voglio sembrare presentuosa ma mi piace proprio sottolineare il fatto che siamo proprio adatti per il settore delle esperienze come diceva come commentava Giancarlo Vitolo che appunto anche lui diceva che la cosa che preferisce di Trexoft è che grazie alla piattaforma può offrire le esperienze quindi sappiamo bene anche Airbnb per esempio ora oltre le camere offre experience qualsiasi ormai big player sta puntando sull'experienze questo vuol dire che chi organizza le esperienze è davvero vantaggiato e deve puntare tantissimo su questo a mio parere proprio se qualcuno ha domande appunto in base alla mia presentazione altrimenti potete trovarmi come dicevo ad ITB Berlino saremo nell'all 4 potete trovarci per appunto venirci a vedere al nostro stand oppure inviarmi un'e-mail dalonachioccio da trexoft.com appunto risponderò a tutte le vostre esigenze e domande Ettore mi senti? Sì, sì dicevo ti stavo appunto chiedendo di dare i tuoi riferimenti per continuare un contatto e quindi approfondire questa relazione mi sembra molto interessante per chi si vuole digitalizzare diciamo così o vuole gestire in modo integrato e anche come abbiamo visto non stress tutto il lavoro che va dal contatto col cliente alle chiusure amministrativo contabili e io ricordo che vi aspetto tutti al prossimo webinar di seguirci sulla piattaforma e sul nostro sito di Artess e quindi vi ricordo anche che a Genova a fine marzo e a Catania i primi di aprile faremo due workshop sul turismo esperienziale sul sito e chi poi vorrà potrà avere un'e-mail di invito a queste prossime manifestazioni così come nelle marche a fine aprile e primi di maggio quindi seguiteci su tutti i nostri eventi anche sui corsi di operatore per il turismo esperienziale che vi ricordo consentono poi di iscriversi alla nostra associazione Assotes quella degli operatori professionali per il turismo esperienziale grazie ancora Alona grazie a voi grazie a tutti buonasera a presto grazie a tutti